Una differenziazione, perché diversi modelli e diversi comportamenti di acquisto e di fruizione chiamano per diversi approcci, per rimanere in ambito audiovisivo, visto che in questo convegno siamo, il cosiddetto videoacquisto digitale o videonoleggio digitale chiama per comportamenti e per rapporti di natura economica profondamente diversi. E infine, perché no, valutare un'ipotesi di relazione con l'utente finale, non certamente in antagonismo o in contrasto con quelli che sono gli operatori del settore, ma tutti i soggetti che rappresentano gli interessi dei produttori dei contenuti e degli ideatori di contenuti hanno anche un'opportunità, come è stato fatto in altri paesi, di potersi relazionare direttamente con l'utente finale. Questo perché, se vogliamo parlare di propositività e quindi di finita la parte sanzionatoria, la disconnazione all'abbonamento internet, piuttosto che tutte le lettere di avviso, lettere via email o fisiche, e ci domandiamo in Italia oggi quale sia l'opportunità concreta per un utente giovane o adulto di fruire in modo legale, semplice e diretto, con dei file puliti che non siano dotati o afflitti da virus perché illegali, di un'offerta nel mondo del digitale, la risposta è piuttosto povera. Abbiamo sulla parte audio un'offerta su internet e sui telefonini attraverso un grande, grandissimo operatore multinazionale che di fatto è monopolista, sulla parte video, siano essi film che opere anche televisive, fondamentalmente non c'è offerta strutturata, e quindi anche coloro che volessero fruire di un contenuto con modalità legale hanno grandissima difficoltà da accedere, non hanno un'offerta organizzata e proposta, come invece avviene sul mondo del fisico, della vendita di beni fisici su internet, perché oggi da un paio di jeans a un viaggio, chiunque di noi voglia esperire un acquisto attraverso e-commerce trova delle modalità molto semplici, molto chiare, con offerte anche molto guidate che gli facilitano la scelta. Tutto questo nello sconfinato mondo delle opere intellettuali non è strutturato. Allora, esiste un'opportunità per questo Paese e forse un po' presuntuosamente anche per un modello europeo, che è finita o in parallelo alla parte sanzionatoria, finita o in parallelo la parte formativa di educazione civica e civile, che è certamente importante per le giovani, giovanissime e non più giovani generazioni, esiste un'opportunità, che in questo caso è anche un'opportunità di mercato, quindi non economicistica, ma economica, per poter generare valore. La CIA su questo si sta candidando e quindi la presenza delle istituzioni, che ringraziamo in questo contesto, è particolarmente preziosa, non a gestire con una logica monopolistica, ma si candida a guidare, a facilitare questo processo attraverso una consultazione con tutti gli operatori del settore, non finalizzata soltanto all'elaborazione di una legge, ma di una proposizione di un nuovo modello di offerta, che sia equo, che non sia eccessivamente esoso, perché anche i giovani che vengono intervistati nelle tante ricerche quantitative e qualitative di mercato rispondono, sì, ho capito che è illegale, sarei anche disposto a fruirne legalmente, ma che non costi troppo. Oggi oggettivamente il tipo di offerta che viene veicolata in Italia è piuttosto parziale, assolutamente complessa e oggettivamente anche un po' esosa l'offerta legale. Quindi abbiamo una grande opportunità in mercato, la vogliamo guardare con ottimismo, la SIAE vorrebbe, insieme a tutti gli operatori che finora hanno creato questa catena del valore, prima di tutto approcciare questo mondo del comportamento di fruizione illegale, che viene chiamato parzialmente pirateria, e soprattutto generare un valore che sia un valore che parte dall'erario che oggi non beneficia di questi acquisti, non in chiaro, a tutti gli operatori, ma distribuito in maniera più equa e simmetrica rispetto alla capacità di generare questo valore stesso su internet e su tutti i mezzi digitali. Grazie.